L'Italia è il nostro paese e la sua bellezza è per noi uno stimolo continuo a realizzare sempre nuovi progetti. Questa volta lo facciamo con gli amici di sempre, perché con loro condividiamo la ricerca per l'eccellenza e l'attenzione ai dettagli. In questi giorni di festa vogliamo regalarvi una coccola speciale che renderà il vostro volo un'esperienza ancora più unica. Battasiola è una delle aziende più importanti nella zona delle Langhe, siamo in Piemonte, una delle eccellenze della nostra area. Per Pasqua abbiamo deciso di abbinare il Moscato Bosch del Array con i Brutemaboni dell'antica corona reale del suo atelier. I Brutemaboni sono appunto nati da un'idea comune con Neos per rappresentare il Piemonte, il vero Piemonte, perché è un dolce che facevano in casa le nostre nonne, perché in quel periodo, 70-80 anni fa, era un dolce semplice da fare, ma con un'altissima materia prima, una qualità altissima di materia prima, tipo la nocciola Piemonte IGP, lo zucchero e l'albume dell'uovo, che erano materie prime facilmente reperibili in ogni fattoria di Langhe. La forma non è tanto bella, però è buonissimo, è croccante e invita a mangiarne molto più di quello che uno vorrebbe. Unito a un bicchiere di Moscato fresco della Vendemia in corso, è un dolce che ti fa ricordare momenti piacevoli. Un vino e un prodotto dolciario che si vanno veramente ad abbinare perfettamente. L'accostamento ideale, perché il Moscato ha questa leggera sapidità che fa sì di andare a sgrassare, tra virgolette, le parti più dolci del Brutemum, questi dolci tipici comunque piemontesi che verranno serviti nei giorni di Pasqua sulla Neos. Non sono il capitano dell'aereo, ma vi auguro una buona Pasqua e un buon volo per i posti più fantastici del mondo. Auguri di buona Pasqua a tutti! Auguri di buona Pasqua a tutti! Auguri di buona Pasqua a tutti! Grazie a tutti.